Sono ancora in corso le operazioni di controllo in vari ambiti da parte del comando della Polizia Municipale di Camerota. I caschi bianchi hanno fatto visita a diverse strutture ricettive e case vacanza della frazione marina per verificare la regolarità dei fitti, l'identità degli ospiti ed informare i proprietari su come e perché pagare la tasse di soggiorno. Uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale di Camerota è proprio quello di regolamentare i fitti e capire chi arriva in vacanza sul territorio tramite l'identificazione di ogni singolo ospite e la registrazione degli stessi. Tutti i cittadini potranno regolarizzare facilmente la propria posizione. I controlli effettuati finora non hanno portato a sanzioni ma soltanto ad un piano informativo per far sì che i cittadini capiscano come mettersi in regola con la registrazione degli ospiti ed il pagamento della tassa di soggiorno. L'operazione ha riscontrato da parte dei proprietari delle strutture molta curiosità e collaborazione molti non erano proprio a conoscenza del metodo che bisognava utilizzare per regolare la propria posizione. Chi aveva bisogno d'aiuto è stato invitato presso gli uffici del comando dei vigili urbani dove nei prossimi giorni verrà allestito un infopoint. I cittadini saranno aiutati a compilare tutta la modulistica. I vigili urbani hanno rilasciato alle strutture un verbale di constatazione.